buonasera amici queste qua sono le strisce pedonali di via di fazio dove ieri sera è avvenuto un incidente per quella povera ragazza che è stata investita da un'auto che proveniva dalla zona industriale volevo far notare che le strisce non solo sono poco visibili poi qui all'inizio c'è una zona asfaltata dove le strisce pedonali non ci sono poi ci sono anche delle buche e in più si trovano esattamente a metà strada tra un palo della luce e l'altro esattamente a metà ecco questo è quest'altro paro e qua dovrebbero esserci le strisce pedonali voi le vedete come le vedo io le vedete voi quindi ci auguriamo che l'amministrazione comunale possa porre rimedio a questo problema onde evitare altri incidenti grazie